musica musica 5 vuoi lasciare il tuo spazio a paga? eh no come no? devo? no era una domanda eh no perfetto ok ma Giorgia che il livello 88 la vuole smettere di giocarci ma guarda che ci smette pochissimo a diventare un livello alto no noi ci giochiamo solo da anni ci si mette potissimo anche a essere una persona decente in tutto ciò che fai e a parlare meglio magari quindi io proverei a migliorare in questo e non nel livello di fasmofobia sai allora Cico eh cosa c'è? dimmi ho visto una scia di incenso da qui chi è stato? no no ha acceso incenso chi? no 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 è un demente esci Non l'ho premuto neanche niente Anzi lo facciamo morire e così ce lo togliamo dalle balle Dai vieni cammina Che idiota Sei a livello Jeric Ma Chico come ti sei ridotto Cioè Vincenzo non è neanche entrato in casa e non te l'avevano chiesto C'è un altro Prima in Minecraft hai sbagliato Stai sbagliando anche qui Ma come fai cioè Cioè quando tu hai Ti ricordi Jeric che non sapevi accendere la candela Sì sì siamo agli stessi livelli E lui ti ha preso in giro Guarda chi è che non sa fare le cose Guarda un po' chi è a livello tuo Guarda chi è tuo gemello fratello Non risponde più Mi vergognerei Sa di quanto fa schifo Non sei buono neanche a portare le cose Cioè fai un po' cagare Bisogna impegnarsi È proprio schifo Mamma mia Vediamo se c'è lo specchio o la tavola Ouija così ci mori Sai com'è Chico Come quello che dice Non vi preoccupate porto io da mangiare Poi arriva e sta mangiando tutto per strada Che schifo che personale di merla Non si fa così Vediamo se c'è lo specchio qua in garage Porca miseria Ah no io guarda eccolo lì C'è ripassato vicino prima Davvero? Dove è? Guardalo Non lo vedo dov'è? Vieni vieni qui Vieni qui Grazie a tutti.